Siamo qui con Caringi dell'Alba Roma, grande vittoria, un po' di sofferenza all'inizio, 0-1 per l'Orione e poi siete riusciti a mettere la testa fuori, nonostante il rigore sbagliato, con personalità avete portato a casa tre punti. Sì, partita difficile perché comunque l'Orione è una squadra che gioca bene, che subisce pochi gol, lo dicono i dati, quindi non era facile riuscire a scardinare una difesa bloccata e ben messa in campo. Nel primo tempo abbiamo creato, ma molto poco precisi, tanti tiri sballati fuori dallo specchio della porta. L'episodio del calcio tango su cui abbiamo sblocato 1-1 è stata una carica per il secondo tempo, in cui secondo me siamo stati più cinici, costruendo comunque ancora più di qualche occasione. Bravi anche a coprirci perché comunque, ripeto, l'Orione occupava bene il campo e spesso stava nella nostra tre quarti, quindi complimenti a tutti i ragazzi. Grazie e bocca al lupo per le prossime. Grazie.